Professore, nel caso di Vittoria si vedrebbe nel ruolo di Assessore alla Sanità? Sì, credo di volerlo. Mi pare qualcosa che completa una carriera nell'ambito della sanità pubblica, dell'operatività nei servizi sociali, nella sanità, ma anche nell'ambito del volontariato, che è la mia passione da 40 anni. La Lombardia, ora come ora, è attrezzata per un eventuale riacquatizzarsi più o meno forte del Covid, un ritorno del Covid? Siamo ancora in difficoltà sicuramente perché manca una connessione col territorio e con i medici di medicina generale. Questo è un po' l'elemento che ci ha visti in difficoltà nel momento dell'emergenza, ma ancora oggi non si è risolto questo gap e sarà necessario lavorare in questo senso. Grazie.